nonostante il bicilindrico parallelo fronte marcia presentato l'anno scorso Honda è rimasta fedele al suo quattro cilindri in linea che tanto piace agli appassionati rimangono a listino e si rinnovano profondamente sia la versione naked CB650R sia la versione sportiva stradale CBR650R cambiano un po il design ancora più moderno per la naked ancora più sportivo per la versione carenata arrivano come abbiamo visto le nuove strumentazioni a colori TFT con Honda Road Sync possibilità di ottenere le indicazioni per la navigazione con turn by turn nuovo il blocchetto più razionale semplice uno dei più semplici che si possono trovare in giro sulle moto moderne tante funzionalità ma la chicca più importante è che Honda introduce una nuova frizione elettronica come funziona insomma è una frizione che non serve insomma fa il lavoro al posto vostro però qui ci servirebbe qualcuno che ce lo spieghi un pochino nel dettaglio così lei è di Honda per caso? ecco ce lo spiega Costantino Paolacci che ci racconta un po nel dettaglio questa grande novità di Honda passavo qui per caso passavo qui per caso eh sì eravamo stand Honda chissà come mai lei è di Honda allora lo vediamo qua guarda che bello Honda e clutch che cosa vuol dire che cos'è come funziona? allora facciamo un trick visivo vai la mano sulla leva vieni con la telecamera qui tira la frizione vedete eccola lì la frizione è al suo posto c'è il cavo c'è l'alberino e quindi è una moto assolutamente normale 6 marce frizione e leva ok quindi posso fare sempre le rizze puoi fare sempre le rizze ok che non si fanno non si fanno non si fanno vabbè non si fanno ma ma in casa qual è la novità questo apparato che vedete applicato in fabbrica non è un accessorio quindi la moto esce di fabbrica così con gli clutch che permette se volete al pilota permette di non usare la leva della frizione mai bisogna continuare a usare il pedale del cambio ok lo bisogna usarlo sempre per mettere le marce in salita in scalata ma se vi dovete se dovete partire se dovete fermarvi se dovete cambiare le marce in accelerazione o in rallentamento potete usare solo il pedale e non usare mai la leva della frizione se volete perché rimane se volete perché è al suo posto e funziona perfettamente perché la leva della frizione va a sempre la precedenza sull'apparato elettronico ok quindi massima comodità in città perché non dovete sempre stare con la leva della frizione in mano se volete guidare in maniera sportiva alla fine funziona come un quick shifter ma meglio perché il quick shifter ti permette di mettere la marcia solo in accelerazione e tendenzialmente anche ad un regime un po alto perché per funzionare bene quel shifter bisogna girare un po alto vi permette di scalare solo a gas chiuso il quick shifter ok li claccia cosa ti permette di fare che se tu sei magari in quinta e stai accelerando ti rendi conto che vuoi più più spinta cosa fai ti butti dentro una marcia a scala e lui va e ti dà l'accelerazione di una marcia inferiore cosa che il quick shifter non ti permette di fare esatto adesso tu però mi stai chiedendo eh ti sto chiedendo ehm cosa ha in comune con un dct eh cosa ha in comune con un dct costa bravo ci avevo pensato anche io se allora se fai una scala di tecnologie cioè la moto senza niente poi c'è il quick shifter che hanno tantissime moto non solo Honda poi c'è oggi l'e-clutch e all'apice c'è il doppia frizione perché all'apice perché ha due frizioni certo gestione elettronica non ha la leva della frizione e non ha il pedale del cambio quindi il dct è automatico se vuoi 100% o manuale se vuoi con le palette pollice e indice quindi il dct è più complesso è più costoso la forbice di prezzo è più pesante più pesante sono dieci chili abbondanti questo due chili soltanto ecco e il prezzo sarà di qualche centinaio di euro superiore alla versione senza ecco qui è detto una cosa importante entrambe le moto saranno disponibili sia con la nuova eclutch sia in versione tradizionale se volete continuare a rimanere nella preistoria così continuate a seguire i video live da Honda qui su motorbox sul nostro canale grazie costa e continua pure la passeggiata ciao